Scusatemi, 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 scusatemi. Scusatemi, sto andando dalla mia ragazza. Ma c'è la fila. Tutto a posto? Sì. Vado dalla mia ragazza. Ciao ragazza. Scusatemi. Oh, ma sei in ritardo. Guarda, i cinque minuti sono passati a un quarto d'ora. Non hai capito? Non mi partiva il motorino. Eh, va bene. Oh, l'hai visto che c'è lì dietro? Sì, me lo dici dopo. Toccandovi, facciate il video. No, 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 no. Quattro dei biglietti? Pref. Vabbè, ma è uno scherzo. Il cinema non scherza mai. Dai avanti che ci rarrenta della fila. Mia, mia! Vabbè, io allora vado a prendere i pop corn. Ecco qua, pop corn e coca. Ma lei è? Sì. So, dieci euro. Dieci euro, sì. Beh, che volevo fare? Ah, sì, sì. No, no. Ma che è rotta per servizio? Sì. Devi dirle. Salve. Salve. Grazie. Forse la sua sinistra. Arrivederci, buonasera. Ciao. Ciao. Info dal corridoio a destra. Tutto a posto? Eh? Camminare, su. Buonasera. Buonasera. Non male, eh? Infatti, non male. No, dicevo, dicevo il film, non male. Il film? Sì, no. Bella scelta. Bella scelta. Io lo vedo con Luca, io. Ecco qua. Oh, mi scusi. Ah, c'è Luca. Salve, buonasera. C'è Luca? C'è Luca. Buonasera. Buonasera. Biglietti? Prego. Scusi. Scusi. Può spiegare cosa sta succedendo? Niente. Siamo tornati. Popcorn? Signorina. Mi raccomando, al cinema, niente cellulare. No, scusi. Buonasera. Vi preghiamo di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo. Il film sta per cominciare. Mi scusi. Che mi sono perso? Mi raccomando, 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 mi